buongiorno a tutti allora come promesso europa league quindi ho qua l'elenco delle 16 partite una se c'è già giocata che stella rossa csk mosca è finita 0 a 0 quindi un risultato che lascia aperto qualsiasi risultato perché comunque con lo 0 a 0 la stella rossa può andare tranquillamente in russia e giocare per due risultati su tre il csk mosca è obbligato a vincere e deve stare attento a non subire gol perché se prende un gol poi deve fare due quindi partita ancora aperta certo il csk mosca teoricamente è in vantaggio adesso giocando in casa il ritorno però attenzione non diamolo per scontato veniamo alle partite successive allora abbiamo astana sporting lisbona la strana sport in lisbona dovrebbe essere x2 volendo si potrebbe giocare anche un 2 però vedendo le quote eccetera direi che per sicurezza magari un x meglio sempre mettercelo borussia dormut atalanta ecco le quote mi dicono che il borussia è nettamente favorito però il dormut non è più il dormut di una volta quindi attenzione che la sorpresa atalanta potrebbe fargli lo scherzetto però visto che si gioca in germania visto che comunque una squadra che ha sicuramente più esperienza dell'atalanta che lo giochi in europa ormai da parecchi anni io punterei sull'1 x 2 magari lo lascerei stare per il momento poi magari l'atalanta va a vincere però io punterei sull'1 x anche vedendo un po le quote vediamo a real società salisburgo anche qui real società con aduriz che sicuramente sarà bello carico per proseguire a segnare un sacco di gol quindi direi uno fisso anche vedendo le quote che sono anche interessanti poi vediamo alla partita successiva che è il milan contro il ludogorez anche qui milan favorito quindi direi un is due tranquillamente però attenzione al ludogorez perché è una squadra che non molla mai fino alla fine della partita la sto seguendo per modo di dire comunque vedendo i risultati che ha fatto in questi anni nelle coppe sin dalle dei preliminari non molla mai quindi attenzione al ludogorez però ripeto milan favoritissimo o comunque favorito sparta plaga athletic bilbao anche qui partita invece un pochettino più equilibrata che se tendenzialmente puntano più sullo scusate spartac mosca athletic bilbao visto male spartac mosca leggermente favorito sull'atletico nella partita casalinga ma di poco quindi direi magari o l'1x o se volete un 1 2 così per fare una cosa un po estemporanea dopo lo sparta mosca athletic bilbao abbiamo nizza locomotive mosca e qui addirittura il nizza è non favorito di più perché lo danno a 1,02 1,92 scusa eh sì magari quindi attenzione al nizza perché è favorito però quando cominciano essere quote più viciverso il 2 eccetera la sorpresa è sempre dietro l'angolo io credo che quando le quote vanno dal sopra l'1,50 sul sul risultato è sempre stare meglio stare attenti e metterci il salva risultato magari una x per salvaguardare la sorpresa bene dopo l'inizza locomotive bosca abbiamo l'olimpic marsiglia con lo sport in braga e qua invece direi uno fisso anche perché la quota è sotto l'1,50 quindi sull'1 quindi direi uno fisso tranquillamente poi c'è la sorpresa osterlinks contro l'arsenal e qui praticamente l'arsenal è favoritissimo sfortunati sfortunati perché comunque sono andati a prendere la squadra tendenzialmente una delle squadre più forti quindi due 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 lo rischierei qui in questo caso il 2 partisa belgrano vittoria plizzen partita equilibratissima quota abbastanza interessanti 1 2 così per fare questo tentativo un po particolare poi c'è la lazio contro il bel ecco poi c'abbiamo la lazio appunto dicevo che deve giocare contro la steau a bucarest a bucarest e in questo caso visto comunque la lazio come è andata dei gironi eccetera come sta andando anche se adesso ahimena viene da tre sconfitte consecutive però io credo che a buca se la lazio faccia la sua buona partita è sicuramente non perde quindi voi x 2 vedete un attimino voi poi o la palla è rotonda magari si addormentano un'altra volta vi perdono anche con la con la steau a bucarest siamo rovinati poi abbiamo napoli lipsia ecco napoli lipsia attenzione perché la locomotive lipsia del campionato tedesco sta andando bene il napoli magari potrebbe essere distratto dal fatto che punta al campionato quest'anno vuole vuole portarlo a casa quindi 1 x per sicurezza perché non vorrei che magari non siano troppo concentrati o che cosa entrano in campo un attimino meno concentrato meno meno ecco e poi succede il patatrac spero di no e spero un bel 3 a 0 e chiudono il discorso e via però non si sa mai l'interessante quella dopo senti glasbo glasgo zen in san pietro burgo quindi la squadra di mancini e direi che vedendo le quote teoricamente dovrebbe essere 1 2 perché lì se quello pagato di più 3 40 mentre invece l'uno è pagato 2 0 5 2 55 e 2 60 al 2 quindi molto equilibrato un 1 2 e invece non lo danno tanto per scontato lì quindi magari se uno si vuole giocare lì per puntare a una quota un attimino ricca o se no è 1 x per sicurezza però attenzione perché questa è una partita sicuramente da tripla che esula da da un pronostico abbastanza facile poi abbiamo l'olimpic lione contro il villareal gran bella partita e anche qui le quote sono abbastanza favoreboli alla squadra di casa cioè lione il sottomarino giallo sembra non essere molto considerato almeno vedendo le quote quindi direi giusto per non rischiare un 1 x poi abbiamo la e k td e controllati da bochie e anche qui le quote sono un attimino favorevoli alla squadra di greca ma non di molto perché siamo 2 30 o tra i 10 3 30 quindi 1 x anche in questo caso e infine copenhagen atletico madrid che direi che due fisso a meno che la squadra di simeone non riesce a pareggiare anche con con il copenhagen e vabbè allora se ma post bene abbiamo detto tutto vi ero un attimino impappinato per la steawa bucarest che abbiamo messo a fcsb e dico fcsb cos'è lo sport bucarest la steawa la stella bucarest era venuto un attimino un dubbio controllato quindi siamo a posto dai vediamo un attimino se c'è zecco o meno a regola so erano vabbè con le doppie non è molto difficile però ecco direi che magari se qualcuno volesse qualche partitina da over c'è però francamente non sono io l'espertissimo di degli over anche se mi piace giocare gli over ma di solito li gioco sulla serie b che mi diverto molto di più anche perché visto che vedo diretta gol è una scusante in più per divertirmi e guardarla e incazzarmi tra virgolette quando magari mi serve un gol e sbagliano il rigore proprio nella partita del gol che mi serve bene vi saluto vi ringrazio questo video lo vedrete in mattinata più o meno perché ora che si carica ci vuole il suo tempo vi ho detto tutto speriamo che le nostre italiane non stecchino speriamo che stasera la roma non sarebbe male se facesse lo stesso risultato che ha fatto la juve perché un 2 a 2 in terra ucraina vorrebbe avere mezza come vorrebbe dire avere mezza qualificazione in tasca quindi speriamo che faccia un buon 2 a 2 vada tutto bene e poi dopo in europa league le nostre proseguano alla grande il cammino che finora hanno fatto più napoli che appunto arriva dalla champions non faccia scherzi perché ripeto a parte la parte l'arsenal e l'atletico madrid non vedo squadre che siano nettamente superiore alle nostre o che possano impensierire più di tanto le nostre se naturalmente le nostre decidono di giocare seriamente l'europa league perché sennò possono uscire anche col vittoria prinziano come già successo altre volte con lo sparta praga come già successo come è successo due anni fa all'inter che abbia fatto una figura barbina eccetera 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 bene ho parlato anche troppo 10 minuti e 20 secondi di video ci vediamo al prossimo un'ultima cosa mi raccomando ho fatto un video sulle gaffe mettete un po di like così ne faccio degli altri perché se non arriviamo a 10 like non lo faccio ciao